Un mondo di musica per Caltanissetta. Ci saranno anche i primi fagotti di alcune grandi orchestre internazionali al Pietrarossa Bellini Music Festival che dal 3 settembre all'11 ottobre invade la provincia nissena, quella Sicilia centrale, lontana dalle rotte del turismo di massa. È stato il conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta a ideare il festival che vedrà 14 concerti cameristici e una serie di masterclass per ogni famiglia orchestrale animate da prime parti che vengono dai luoghi più illustri della musica internazionale dai Berliner e Wiener Finharmoniker, alla Chicago Symphony, alla Scala, al Reggio di Torino, al Concertgebou di Amsterdam. Una vera alleanza culturale e come dice l'architetto Andrea Milazzo presidente del comitato promotore, un festival con la responsabilità etica di rialfabetizzare questo territorio al patrimonio musicale, azione necessaria ed urgente. Queste giornate di socializzazione nel nome della musica animeranno i luoghi storici dello splendido territorio nisseno, primo fra tutti il castello di Pietrarossa, fortezza medievale simbolo della Sicilia normanna. Il programma dei concerti verrà deciso anche in funzione dell'attività delle masterclass. Il festival diventerà il cuore pulsante del territorio nisseno, dichiara il maestro Angelo Licalsi, direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini e direttore artistico dell'evento. Soprattutto gli studenti locali e i giovani musicisti in arrivo per le masterclass avranno l'occasione di esibirsi a fianco di maestri affermati in questa straordinaria terra dove si fondono bellezze naturali e irripetibili testimonianze storiche.